Siete voi, lo vedete che siete voi! Perché spingete? Allora, perché spingete? Perché spingete? Non dovete spingere, non dovete spingere! Perché spingete? Perché spingete? Perché spingete? Dov'è il coach? Dov'è il coach? Dov'è il coach? Un attimo di caldo! Fermi! 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 Dov'è il coach? 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 Spostatevi voi! Spostatevi voi! Spostatevi voi! Ci spostiamo dopo! Spostatevi voi da qua! Perché se voi siete dietro 10 metri da qua! I 10 metri da qua! Tutto lì! Quindi non fai di calma, ci capiamo! Siamo avanzati i 10 metri da qua! Siete voi che ci attaccate! Cosa servono? Solo per capire cosa servono questi 10 metri! Perché le devo dare tante spingate? Vabbè! Allora pestateci! Allora pestateci via! Cosa aspettate? Facile no? Basta! Va bene! Se non spingete... Noi non spingiamo! Noi spingiamo! Noi spingiamo! Noi non 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 spingiamo! Basta grandi opere! Abbiamo uno un po'.